Ehi, bentornati con il nostro appuntamento settimanale col TG K-Pop. Questa settimana purtroppo dovremo affrontare un episodio terribile successo agli Omega X. Cercheremo di capire perché si parla di rinnovo delle Blackpink, vedremo nuovamente fallire la Cube e insieme al fallimento della Cube vedremo fallire nuovamente il K-Pop agli occhi del pubblico italiano. Inoltre, anche questa settimana un'altra artista ha avuto un malessere durante un concerto. Parleremo anche del trionfo assoluto di un girl group e infine del solo di Jin. Tutto questo insieme a tutti i comeback della settimana e un consiglio su cosa guardarvi in questi giorni. Le Blackpink hanno già rinnovato? Di questo fatto molti sono convinti erroneamente ormai da tanto tempo. Cioè, chi dice che il loro contratto sia già stato rinnovato fino al 2027 e altri che sia già stato rinnovato fino al 2029 sono chiaramente fake news basate su non si sa nemmeno cosa, non sappiamo nemmeno quale sia la base principale da cui siano partite. Questa volta però, a differenza del passato, c'è un motivo per pensare a questo rinnovo anticipato, ancora però non dichiarato. È stata annunciata la presenza delle Blackpink al BSD Hyde Park Festival. Si tratta di un festival estivo che si tiene a Londra per diversi weekend. Sì, ma cosa c'entra il festival con i rinnovi? Ecco, il loro contratto scade a giugno del 2023. La loro presenza al festival è confermata per il 2 luglio 2023. Cosa significa questo? Ha per caso il gruppo già rinnovato con la YG e non lo sappiamo? Ve lo dico già, no. Assolutamente no. Nonostante sia un'attività per cui il gruppo si è già impegnato, oltre alla data della scadenza dei contratti, ciò non significa che rinnoveranno con la YG. Alcuni membri, infatti, potrebbero tranquillamente lasciare l'agenzia pur facendo ancora parte del gruppo. Di recente abbiamo visto l'esempio delle Mamamoo, dove Wynn non fa più parte della RBW. Eppure hanno appena fatto un comeback e hanno fatto un tour insieme, quindi se dovesse succedere una cosa del genere alle Blackpink, dovreste immaginarvi un pochino lo scenario 2021-2020. Ovvero potrebbero esserci degli anni in cui i membri si concentrano soprattutto sulle proprie carriere soliste e anni in cui danno la priorità al gruppo. E tenete bene a mente che le loro carriere individuali sono incredibili, ben definite e davvero piene di successo. E che molti dei contratti che hanno non dipendono più dalla YG. Per dire, ci se non perderà sicuramente il suo contratto come Global Brand Ambassador, come Cartier, perché non fa più parte dell'agenzia. È infatti lei che li fa vendere e non la YG. Mi raccomando, non fatevi la bocca su queste notizie dei rinnovi, perché potreste rimanerci davvero male. Aspettate sempre le notizie ufficiali prima di festeggiare. Vediamo adesso la notizia più sconvolgente di questa settimana. La notte del 23 ottobre è stato postato su Twitter da un utente anonimo un video contenente soltanto un audio dove si può sentire chiaramente il presidente della loro agenzia, la Spire Entertainment, imprecare e urlare in maniera rabbiosa contro di loro. Nell'audio si sente inoltre il rumore di un colpo, una caduta per terra e di un ragazzo che piange. Nella dinamica della faccenda sembrerebbe che lei li stesse riprendendo perché non si sono preoccupati per lei e che pure lei era già svenuta più volte. Questo in risposta a uno di loro che stava per collassare. Dopo che quest'ultimo è collassato, la sua ira non si è placata. Anzi, inizia ad urlargli di alzarsi. Nemmeno 24 ore dopo quell'audio agghiacciante, la SBS pubblica un video dove si vedono le scene che ritraggono in parte ciò che succedeva nell'audio. In più ci sono altre riprese dove la vediamo percuotere i membri e addirittura lo staff che ha dovuto trattenerla per fermarla dal continuare ad alzare le mani contro di loro. In un'intervista esclusiva con la SBS ha rivelato che il ritorno dei membri in Corea è stato posticipato a causa di errori nella prenotazione del volo, in pratica i membri erano seduti accanto a persone normali in mezzo ai fan, e che quindi avevano dovuto cambiare il volo per scegliere posti migliori per la loro sicurezza. Quindi che nessuno dei membri era confinato in America. Per quanto riguarda l'audio e il video, la presidentessa dell'agenzia ha detto che era stato tutto montato e creato dagli antifan dell'agenzia. Manco fossero la Cube! Poi ce n'è anche per te Cube, eh? Aggiunge inoltre che anche lei ha avuto problemi di salute e diverse difficoltà soprattutto a prendere sonno, e che è rimasta molto triste dal fatto che i membri del gruppo non si siano preoccupati per lei e non abbiano cercato di confortarla. Certo, è compito loro questo. Che comunque è estremamente educata nei loro confronti e che addirittura usa gli onorifix tutte le volte che parla con loro. In poche parole usa il linguaggio formale, tipo da loro del lei. Al di là di quanto sembrino ridicole le sue scuse e di quanto sembri non preoccuparsi minimamente delle conseguenze delle sue azioni, ciò che più preoccupa è come sia successo il tutto. Prima in mezzo a una strada, dopo nella hall e nei corridoi di un hotel, come se fosse normale e non ci fosse nulla di sbagliato. Inoltre, la calma dello staff fa pensare che siano episodi più comuni di quanto sembri. Come si vede nel video e nell'audio, nessuno dello staff cerca di aiutarli o proteggerli. Soltanto loro, tra di loro, si fanno forza e si difendono. Gli Omega X si sono formati da diversi gruppi che si sono sciolti o che sono in pausa a tempo indeterminato. Questa sarebbe stata la loro seconda chance per realizzare il loro sogno, che purtroppo sembra essere sempre più un incubo. Sapete qual è la cosa triste? Non riesco a prevedere un lieto fine in questa situazione. Purtroppo, essendo piccola l'agenzia, anche se la presidentessa dovesse affrontare le conseguenze delle sue azioni, ci rimetterebbero comunque loro, perché è molto probabile che l'agenzia appartenga al 100% alla donna o comunque una grandissima percentuale sia di sua proprietà. Ciò significa che se dovesse pagare, l'agenzia potrebbe fallire o chiudere i battenti e quindi gli Omega X si scioglierebbero. In caso contrario, tutto continuerà allo stesso modo. Semplicemente staranno più attenti a non farsi scoprire. Storie come questa purtroppo mi spezzano il cuore, perché c'è davvero poco da fare. Notizia del giorno decisamente improvvisa e non tanto bella, le Lightsam da gruppo di 8 membri diventano gruppo di 6 membri. Nell'annuncio ufficiale della Cube non ci sono spiegazioni sulla questione. Dicono solo che, dopo attente discussioni, hanno deciso di riorganizzare il gruppo con 6 membri. I membri tagliati fuori sono Wiyon e Tian, la McNeiline. Non sappiamo ancora se questa decisione dipende al 100% dalla Cube o anche dalla volontà delle ragazze. Che ne so, magari potrebbero aver deciso di concentrarsi sugli studi, ma per come è stato scritto l'annuncio, la vedo molta farina del sacco della signora Cube. In ogni caso, si riconferma ancora una volta una delle peggiori agenzie dell'industria del K-pop e pessima nella gestione degli artisti. Ci siamo cascati e ci siamo fatti usare a dovere. La scorsa settimana Cattelan ha fatto un monologo in televisione dove parlava dell'arruolamento dei BTS. Ha usato la sua solita chiave irriverente e satirica e in alcuni casi ha avuto delle uscite un po' di cattivo gusto, come ad esempio il ridicolizzarli fisicamente e trovarli non all'altezza di quello che è l'addestramento militare, mostrando di proposito una clip dove erano adorabili e cute, che all'italiano medio risulta pure terribilmente cringe. La cosa strana è che però non è stato questo a dare più fastidio, ma il fatto che avesse detto che il fandom dei BTS è soltanto femminile. Vabbè, qui è soprattutto ignoranza più che malizia. Comunque, giustamente, moltissimi armi sono esplosi e hanno iniziato a scrivergli di tutto nei commenti su Twitter. Bravi! Grazie! Avete fatto il suo gioco. A differenza di altre volte dove a parlare era soltanto l'ignoranza e il pregiudizio, quello di Cattelan è stato un intervento ben studiato. E infatti la sua è una provocazione che andava a cercare questo tipo di reazione perché agli occhi dell'italiano medio, che è anche un pochino xenofobo, ma non lo sa, Cattelan rimane pulito e non ha detto nulla di sbagliato, alla fine è satira. Mentre invece la reazione di chi segue il K-pop, perché per l'italiano medio il K-pop sono soltanto i BTS, una reazione del genere è estremamente tossica, estremamente, permettetemi il francesismo, bimbo minchiosa, e stavolta a darci la zappa sui piedi siamo noi, che con questo atteggiamento abbiamo promosso in maniera molto negativa l'immagine del K-pop. Dopo che la scorsa settimana Yungin e Chewandle e Serafim hanno avuto un incidente stradale, nulla di grave, per fortuna, adesso sono di nuovo tornata a esibirsi, e che Son Wondelian Hypen è collassato in aeroporto, stavolta è Bongio a farci preoccupare. Bongio si è sentito male durante la tappa a Bangkok del loro world tour, ha fatto del meglio per tornare sul palco e concludere il concerto. La Big Hit annuncia che l'artista si concentrerà su riprendersi e che, non osante voglia partecipare a tutti gli eventi dei TXT, pianificheranno i loro impegni futuri dando la priorità alla sua salute. Quest'anno, purtroppo per lui, l'esperienza col world tour è stata terribile e decisamente tribolosa. Q, datti tempo per respirare e riprenderti al 100%. Celebriamo invece con una notizia fantastica. Le idol hanno fatto il loro ritorno la scorsa settimana con un comeback sconvolgente, che non solo ha portato una vittoria in data odierna, ma ha anche ottenuto una perfect all kill. Quest'anno, soltanto, I Envy You di Taeyeon, la loro tomboy, Still Life dei Big Bang e After Life delle Hive hanno ottenuto una perfect all kill. E non vorrei dire, ma le idol sono l'unico artista del 2022 ad ottenerne due. Io la butto lì. Girl Group of the Year. Concludiamo le notizie della settimana con il solo di Jin, anche questa settimana. Infatti non finiscono le sorprese. È confermata la sua collaborazione col Coldplay e non solo la canzone è stata coscritta con loro, ma le promozioni del suo solo inizieranno a Buenos Aires in Argentina. In che senso a Buenos Aires in Argentina? Jin sarà lo special guest del concerto dei Coldplay in Argentina a Buenos Aires e si esibirà per la prima volta col suo solo in live con la band davanti a più di 70.000 persone. Così, promozione sobria e tranquilla. Il concerto si potrà pure vedere ai cinema in diretta. Non per noi italiani che però potremo guardarci la replica il giorno dopo, cioè il 29, ai cinema. Questa settimana è piena di comeback molto molto vari. Iniziamo con Kihyeon, membro dei Monsta X, che con un sorprendente e orecchiabilissimo sound festeggia il suo rinnovo con la Starship. Cho Yuri mi fa venire voglia di piangere e celebrare contemporaneamente senza un qualche motivo e voglio un suo lightstick, tipo, ora, createlo! Le Pink Fantasy infine danno un tocco dark a questa giornata piena di uscite raggianti. Il 26 tornano le Classic con un singolo album contenente due title track. Vedremo anche gli Ipex in una veste adorabile, simpatica e sottona. Non può mancare anche il primo comeback degli ATBO e vedremo se sono un rookie of the year material oppure no. E a concludere la giornata abbiamo un progetto NCT Lab con protagonista Ten. Il 27 prevedo delle bellissime vibes da seconda a terza generazione col comeback delle Alice. Il 28, invece, credo che piangerò tutto il giorno. Ci sarà infatti il debutto di Jin, il mio bias, tranqui. Avremo anche un altro debutto, quello della prima subunit di quello che si prospetta il girl group più numeroso della storia del K-pop, le Triple S, 24 membri. Questa settimana vi consiglio di guardarvi su Netflix Take One, l'ultima canzone. Un reality show di 7 episodi dove ai protagonisti Netflix darà la possibilità di preparare la miglior performance di una sola canzone in live girata in una sola ripresa. Sono 7 episodi, ognuno dedicati a un artista. Quelli un po' più noti per noi amanti del K-pop sono gli Akmu, Rain e le Mamamoo. Qui gli altri artisti protagonisti dei vari episodi. Vedremo il percorso di preparazione per la performance, le difficoltà che incontreranno in questo processo e alla fine la performance finale. Per questa puntata del TG K-pop è tutto. Fatemi sapere qual è la notizia che vi ha colpito più in positivo o in negativo, di quale notizia non eravate al corrente e quale comeback è stato il vostro preferito. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!